E come facciamo tutti lunedì sera, ci occupiamo di calcio dell'Alma Juventus Fano che domenica scorsa ha pareggiato in casa contro il Chieti per 0-0. In studio per il commento della partita, per risultati, classifiche e pagelle abbiamo Sergio Catalani. Allora Sergio, a te la parola. Grazie Lino, quindi torna a fare punti l'Alma Juventus Fano che al cospetto di una grande, il Chieti visto ieri al Mancini si è dimostrato veramente un'ottima squadra, si prende un brodino e dopo la scialba prestazione di Iesi torna a fare punti, un 1-0-0 che sta comunque stretto alla compagine nero-verde che avrebbe meritato sicuramente qualcosina in più. Alma che deve ringraziare il portiere Ginestra, autore di almeno tre interventi prodigiosi. E ora vediamo i risultati e la classifica con il prossimo turno della nonna giornata, quella che si è giocata ieri. Alma Juventus Fano Chieti 0-0, Amiternina Recanatese 2-1, Campobasso Agnonese 3-0, Folgore Veregra Iesina 1-1, Giulianova San Nicolò 0-3, Isernia Samb 0-2, Matelica Avezzano 2-1, Monticelli Castelfidardo 1-1, Vispesaro Fermana 2-1. Per una classifica che vede in vetta da sola la Samb di Mister Palladini ha 19 punti, seguile San Nicolò prossimo avversario Granata ha 18, Fano 17 in terza posizione, Matelica 16, Chieti Monticelli e Avezzano 14, Campobasso 13, Folgore Veregra 12 insieme a Lisernia, Castelfidardo e Recanatese 11, Fermana 10, Iesina 9, Agnonese e Vispesaro 8 chiudono la classifica. Amiternina e il Giulianova, la prossima partita molto ma molto delicata al Bonolis di Piano Daccio, campo in erba sintetica a Teramo contro il San Nicolò, un'altra squadra che insieme al Chieti gode dei favori del pronostico. E ora le pagelle della partita Alma Juventus-Fano Chieti. E' stato senza valutazione, Mister Alessandrini 5 e mezzo, arbitro Guarnieri di Empoli 7 e mezzo. Sergio perché 5 e mezzo al Mister? Ma diciamo che il Mister che lui sa che io stivo perché è il valore aggiunto, è stato e lo sarà del Fano, non ci convince del tutto per quanto riguarda i cambi e sul fatto che magari ci sono giocatori in panchina come Salvato, come Sassaroli, come Chiacchiarelli e anche Buongiorno che potrebbero essere inseriti e quindi essere una valida alternativa a Sivilla, Gucci, Borrelli e Lunardini che ai noi giocano sempre e magari potrebbero essere un po' appannati in questo periodo. Allora facciamo un passo indietro, andiamo a domenica 18 ottobre perché non è piaciuta ai giocatori del Fano la telecronaca della partita iesina Alma Juventus Fano affidata appunto a Sergio Catalani nella quale i Granata sono usciti sconfitti per due reti a zero. Ieri pomeriggio al termine dell'incontro casalingo contro il Chieti finito a reti inviolate la squadra ha voluto rimarcarlo con forza rilasciando una dichiarazione spontanea a fine gara e in sala stampa si è presentato il capitano Alex Nodari che a nome dei compagni si è rivolto al telecronista appunto Sergio Catalani lamentandosi del trattamento verbale subito durante la telecronaca al Pacifico Carotti di Iesi sentiamo un estratto di questa dichiarazione rilasciata al macrofono appunto di Sergio Catalani sentiamo Io una roba sentita come ho sentito dopo la partita di Iesi a criticare in malo modo e a offendermi perché mi hai offeso io non so a te cosa ti ho fatto non so cosa è io ho sempre rispettato tutti e tutti ripeto, con i miei difetti, giocando bene e giocando male ma quando uno mi offende in quella maniera lì io non ci sto hai espresso parole al limite del ridicolo imbarazzante hai detto di tutto e di più io non sono venuto qui a farmi prendere in giro da te o da qualcun'altra persona io sono qua a portare avanti un obiettivo in modo equilibrato e giusto insieme ai miei compagni i miei compagni vanno rispettati come vado rispettato io se questo non riesci a capire perché ci hai offeso in una maniera assurda e ripeto assurda da una persona come te che sinceramente non ti conosco benissimo ma non pensavo che arrivavi a fare un discorso del genere Ricordiamo la dichiarazione completa di Alex Nodari la potrete ascoltare nello spazio interviste appunto a fine della partita partita che trasmetteremo al termine del telegiornale come sempre Allora Sergio, visto che sei qui insomma come rispondi a questo attacco verbale così forte da parte del capitano dell'Alma? Ma intanto ecco Nodari ha risposto da solo perché dopo le brutte prestazioni sciorinate con Isina e Samb ieri ha giocato con una granissima gara e io non ho avuto problemi anche nelle pagelle a rimarcarlo insieme a me e al portiere Ginestra con un po' tutta la difesa Nodari è stato il migliore in campo fatta eccezione per qualche rinvio magari non della sua fama ma comunque si è guadagnato il bel voto diciamo cercando di sdramatizzare conoscendo quanto Alex Nodari tiene alla maglia granata ai tifosi e alla città sicuramente ecco vediamo una carica positiva un'energia positiva che potrà fare soltanto che bene ecco io per me finisce qui naturalmente io non sono né arrabbiato né offeso con Alex e ci mancherebbe altro anzi sono pronto in qualsiasi momento a chiarire e parlare con diciamo lui e con anche gli altri giocatori c'è quindi soltanto tanta rivalsa perché siamo tutti convinti io per primo che l'Alma è una grandissima squadra e da queste difficoltà potrà soltanto che rialzarsi tutti ce lo auguriamo un'unica cosa la vorrei dire io sono spesso diciamo un po' nel mi rinno anche un po' della critica e nell'occhio del ciclone ma essendo comunque teleconista e comunque collaborando con l'imitante Fano TV ma soprattutto essendo tifoso molte volte certi giudizi vengono un po' enfatizzati ma è soltanto l'amore il grande amore che nutro verso questa maglia verso la maglia granata che mi porta magari a essere a volte eccessivo ma questo è il mio modo di fare teleconismo perché lo scorso anno non ci si deve dimenticare insomma delle emozioni che vi ho che mi avete anche trasmesso voi giocatori pubblico ambiente con lo straordinario campionato culminato con l'eliminazione ai playoff con il monopoli quest'anno si vuole far di meglio e quindi ecco mi si perdono ma anche magari a volte certi eccessi ma sono soltanto dovuti al grande amore che nutro per questa maglia bene, grazie Sergio per le tue parole